Un flagello sul vecchio continente sono più di 750.000 i casi di contagio da coronavirus che sono stati diagnosticati ufficialmente in Europa, ovvero la metà del totale a livello mondiale e quanto emerge dal bilancio odierno dell'AFP redatto sulla base dei dati ufficiali comunicati dai singoli paesi. Con almeno 750.276 casi di infezione, tra cui 58.627 morti, l'Europa è il continente più colpito dalla pandemia di Covid-19. In tutto il mondo sono stati registrati invece 1.438.291 contagiati e 82.726 decessi. Gli stati più colpiti con il maggior numero di contagi e decessi sono la Spagna, l'Italia, la Francia e la Germania.